Ciao ragazzi, oggi sono qui ragazzi per parlarvi di una cosa che mi è successa un pochino di tempo fa Ebbene sì, Tarzan se n'è andato Ora però vi spiego più o meno quello che è successo La sera del 29 febbraio 2018 mi sedetti su una sedia in una posizione molto comoda e molto femminile A sfogliare le foto dei miei youtuber preferiti De Gregorio, quello che si fa ai Spinelli e tanti 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 altri Ma a un certo punto bussarono Avanti! Tarzan se n'è andato A quella notizia rimasi letteralmente basita Non sapevo cosa fare Ero nel panico Continuavo a guardarmi intorno e a chiedermi Cos'ho appena sentito Quindi mi sono messa a riflettere Mi sono messa a piangere Solo a vedere queste scene niente a piangere Comunque mi sono detto basta Adesso devo indagare su cosa è successo al mio taso Mi alzai e andai di là Eeeh Vedi il mio Tarzan scappare Quindi mi buttai di corsa a recuperarlo Ma fu troppo d'alti Il mio tesoro se n'era già andato Dopo un pochino senti bussare alla porta E vedi il mio taso a correre di fretta in furia in casa Dalla sua orecchio cadde questo telefono Lo raccolse e cominciai a guardarlo attentamente E trovai una cosa sconcertante Questo è tutto ragazzi Io ancora non riesco a credere che Tarzan Dammi un po' di lacrime Per far scena E per far in modo che sia tutto più Vero Dicevo Non riesco a credere che Tarzan Sia riuscito a tornare a casa Portandomi Quel messaggio Io ragazzi non so cosa significhi quella foto Però Devo scoprirlo Vi prego Aiutatemi anche voi A capire Perché Tarzan si è tornato a casa Con quel telefono E con quello sfondo del telefono E vi prego Aiutatemi A scoprire Quello Che è successo Al piccolo Tarzan Scrivi Amen qui sotto nei commenti Per salvare Il piccolo Tarzan Da questa Bruttissima Maledizione Grazie a tutti Massimo possiamo evitare di urlare un minuto Dalla stanza all'altra Grazie Coprire Anzi Apri Guardate le camera Rimani in silenzio E esci Spostati Guardi che sta C'è una buce No non mi interessa quello Ok Vai Non è andato su Doveva andare giù Ok Ok No Dove Devi rientrare più Vai Rifalla Rifalla Vai Chiamalo Mamma mia Oh Io veramente Mamma mia È una cosa assurda Dopo un pochino Senti bussai la porta E vedi Dopo un pochino Senti bussai la porta E vedi Dopo un pochino Senti bussai la porta E vedi Dopo un pochino Senti bussai la porta E vedi Rientrare il mio Tarzan Dopo un pochino Vedi rentare Dalla porta Fine Lols La 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 like me